E' arrivato un altro momento magico e sensuale. Ma non ti ha ascoltato nessuno? Ma non ti ha ascoltato nessuno? Ma tu sei pure... Uuuuh, io da sempre sarò un microfonato. Bene, Irene Carputo! Irene Carputo! La nostra elegante e bella Irene. Grazie. Vedi tu che dicevi che ti distinguevi. Siete nelle stesse tonalità. E' uno yogurt, la pelle così bianca che sembra uno yogurt. Una porcellana. Una porcellana. E diciamo pelle di alabastro. Va bene, Irene stasera è preparato. E' una sorpresa sempre per tutti perché noi notiamo solamente il giovedì. Lei si esibisce e noi la guardiamo dicendo ah è bello. Sì, sì. E allora, Irene Carputo? Allora stasera la danza praticamente riguarda proprio la danza del ventre. Perché sono delle percussioni. Proprio la danza del ventre. Quindi abbiamo tutti in movenza un po' particolare. Bene, Irene Carputo, prego. Grazie. Grazie. Perchè. Grazie a tutti. 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 Giusto? Irene, ci vediamo nel secondo tempo. Grazie. Grazie a tutti.